Deve sparire gli egoismi, deve prevalere l'interesse collettivo del nostro Paese. Se si riprende il ragionamento da questo punto di vista, se il Presidente Conte fa uno sforzo in questa ottica, magari le cose entro le quattro si possono... Ma su cosa si è renato? Il problema è di mare da parte. Il problema è avere buon senso nella gestione di una fase delicata come quella che stiamo affrontando. Di Maio ha chiesto al Ministero dell'Interno o no? È vero o no? Perché hanno smentito. Guardi, il tema non è uno o l'altro a un Ministero. Il tema è cosa fare, farlo bene in tempi rapidi, dare delle risposte serie al Presidente della Repubblica. Il problema è il ruolo di Di Maio. Il problema soggettivo non esiste nei confronti di nessuno. È vero che avete rimosso il veto su Conte? È un problema di squadra? Non è un problema di squadra. Noi vogliamo parlare di cosa ha bisogno l'Italia e di chi lo può fare meglio. Ok, quindi di programmi e di squadra. Senso di responsabilità da parte di tutti possiamo riprendere il ragionamento. Ci sarà un incontro stasera? Noi abbiamo un incontro alle quattro insieme al segretario Zingaretti per valutare la situazione. Grazie. Ma siete pronti a risedervi a un tavolo a Chigi? Solo se ci saranno le condizioni. Grazie. Grazie.